Benvenuti, benvenuti alla rassegna stampa di oggi mercoledì 24 agosto 2022. Vi ricordo l'appuntamento alle 13 con il Mercoledì Sport, ci troveremo in diretta per parlare dell'ultimo turno di campionato. Mentre invece oggi sui quotidiani e anche sui portali online che vedremo più tardi si parla molto di mercato. Prima però alcuni passaggi di un'intervista della Gazzetta dello Sport a Boban che dice c'è Pioli 6 da Scudetto Bissi ma in Zaghi e in Polo Allegri invece. Boban parla di tanti temi, naturalmente parla della Champions League, domani ci saranno i sorteggi che ovviamente riguardano anche il Milan e poi parla dei mondiali in Qatar. Dice alla domanda i calendari sono stati rivoluzionati, tornei spezzati a metà, Boban risponde bisognerebbe chiedere a chi l'ha voluto cosa pensava in quel momento ma sono finiti quasi tutti male come meritavano. Se immagini un mondiale in Qatar sei costretto a farlo d'inverno. Poi riguardo al Milan dice a chi ha fatto i complimenti per la prima telefonata per complimentarsi dello Scudetto del Milan a Paolo Maldini e Massara che poi mi hanno passato Pioli sul pullman di ritorno da Sassuolo allo stadio c'erano mio padre e mio figlio pazzi rossoneri. Poi dice lei il Milan tornando indietro rifarebbe e ridirebbe tutto e Boban dice assolutamente sì questione di principio e di dignità non mi dipingo come un santo non lo sono ma andava fatto dispiace quanto accaduto ma ne vado fiero Maldini decisivo per lo Scudetto brutta la storia dell'attesa per il contratto e quindi insomma un'interessante intervista a Boban che sicuramente non è mai banale nelle sue esternazioni. Al centro si torna a parlare della questione Leao. Ne abbiamo parlato ieri il Chelsea ci pensa ma il Milan ne dice no. Leao non si tocca scrive la Gazzetta dello Sport. Gli inglesi si interessano a Rafa ma servirebbero almeno 150 milioni. Brivido Leao all'interno della Gazzetta. L'ombra del Chelsea su Rafa ma lui e Milan fanno muro. Gli inglesi pensano al portoghese che però in rosso nero si sente a casa. Operazione quasi impossibile per tempi, logistica e costi. Servono quasi 150 milioni come dicevamo ieri. Insomma nel momento è un po' tardi per questo tipo di operazione. Poi insomma in futuro vedremo un po'. Nel frattempo un'analisi sulla falsa partenza tra, dal mio punto di vista, enormi virgolette per quel che riguarda Leao. Ancora senza gol e sostituito l'ultimo, l'uomo scudetto deve ritrovarsi. Il sorriso non mente perché Rafa Leao il sorriso non lo quasi perde mai. Se succede il segnale che qualcosa non torna come domenica sera a Bergamo quando Pioli lo ha richiamato in banchina Rafa è uscito a testa bassa. Vabbè, questa è la questione Leao. La questione Leao che si trova tra l'altro solo sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport anche perché le altre parlano del Milan ma lo fanno attraverso il mercato. Infatti vedete tutto Sport, Onan al Milan, la generazione Z nelle mani di Pioli, si concluderà naturalmente. E poi anche sul Corriere dello Sport, vediamo un po' se riusciamo ad aprire il Corriere dello Sport. Eccolo qui, vedete Milan accelera per Onana, quindi mercato, insomma la questione della Gazzetta dello Sport e di Leao è un po' come dire per richiamare l'attenzione su quella che in realtà poi alla fine dei fatti è un'indiscrezione. In basso la celebrazione di Arrigo Sacchi, a Sacchi l'Oscar UEFA, il calcio soprannaturale. Domani verrà premiato il nostro storico allenatore maestro d'Europa. L'UEFA premia Sacchi e che complimenti il tuo calcio soprannaturale. Pochissimi hanno rimodellato la filosofia del gioco nel modo in cui è riuscito a farlo Arrigo Sacchi. Il calcio può essere distinto in due epoche diverse, pre e post Sacchi. Le infinite innovazioni tattiche che ha introdotto sono oggi le basi di qualsiasi manuale del calcio, riprese da generazioni di allenatori che l'hanno seguito. Sacchi ha reinventato l'etica del lavoro di squadra che trascendeva la pura armonia in campo. La perfetta sincronizzazione è una mentalità sempre vincente, indipendentemente dal fatto che la squadra giocasse in casa o fuori. Facevano sembrare tutto quasi soprannaturale negli anni Ottanta. Questa è esattamente la differenza tra eccellenza e grandezza. Quindi onore al merito al profeta di Fusignano che in questa foto ci rimanda a meravigliosi tempi di un Milan bellissimo che è stato. Quindi il premio a Darrigo Sacchi. Poi gli altri temi sui quotidiani sono naturalmente temi di mercato e un po' di situazione. Mercato che per fortuna tra pochi giorni finisce e finisce anche per la Juventus che è a caccia del vice Vlaovic. Depay e Milik sfida allo sprint, l'olandese è caro, il polacco è favorito. A questo proposito Tutto Sport scrive pensieri poco allegri. Vedete questo titolo che dice la Juve si interroga sulla prestazione con la Samp. Valutazioni di mercato e scelte che lasciano perplessi non solo i tifosi. Attacco volata Milik Depay. Infatti sembra proprio Arkadius Milik il prescelto. Depay chiede sempre troppo e non fa sconti. Milik diventa il favorito. Per accontentare le esose pretese dell'olandese servono delle uscite più facili arrivare al centravanti del Marsiglia. Quindi la Juventus è su Milik. Nel frattempo l'Inter invece sta per definire quello che sarà il difensore che andrà a completare la propria rosa. Dice intesa con Acerbi però il preferito rimane Cialoba. A Canji si complica. E tra l'altro anche sul Corriere dello Sport si parla di questioni di mercato. Si parla di Inter. Tra Cialoba e Akanji l'Inter vira su Acerbi. L'affare si chiuderà dopo la sfida di venerdì. Tra l'altro combinazione proprio con la Lazio. I rinincontro con l'agente del difensore. C'è il via libera appunto della Lazio per un prestito gratuito. Ma prima Marotta riparlerà con il Cesi. Poi c'è la questione Roma. Roma quante scintille quando Mu vede bianconero. Sabato c'è la partita di Torino con la Juventus. E a proposito di Roma. Sabato la Roma vedete su tutto sport. E Belotti corre da Murigno. Infatti c'è a questo punto la seria possibilità che con delle uscite di mercato. Diciamo la Roma possa arrivare a Andrea Belotti. Che sappiamo è ancora svincolato. Sembrava insomma che dovesse andare un po' di là. Alla fine è ancora senza squadra. E adesso pare che possa accasarsi alla Roma. Ma intanto a Napoli, mani sul Napoli. L'ora di Navas svolta nella trattativa. Dirigente Azzurri a Parigi. Naturalmente per cercare di trovare un'intesa. Con Fabian Ruiz che andrà al Paris Saint Germain. E invece Keylor Navas che andrà al Napoli. Intanto colpo gattuso. Cavani è vicino al Valencia. Quindi questa notizia è importante. Anche per la nostra ex bandiera. Diciamo per Rino Gattuso. E queste sono sostanzialmente le notizie di mercato. Poi all'interno della gazzetta c'è l'approfondimento suo Nana. Dice Milan adesso scegli per il centrocampo. Ogni dica sfumato Nana in prestito. No costa 5 milioni di decisioni a breve. Insomma ci sono questi soldi che ballano. Il Milan avrebbe voluto una formula di prestito con diritto di riscatto. Invece il Bordeaux vuole tutto e subito. Il Bordeaux è disposto solo a vendere. E quindi vedremo insomma quale sarà la scelta. Ovviamente so che sembra un po' strano. Ecco diciamo che il Milan. Una squadra come il Milan che ha appena venuto il campionato. Possa ballare per una cifra tutto sommato bassa. Rispetto sicuramente ad altre operazioni di mercato. E questo è vero. Però c'è anche da dire che evidentemente. Onana non è proprio la prima scelta per i rossoneri. E quindi ci sono delle valutazioni in corso. Proprio per una questione di come dire. Di non fare errori. Di non commettere errori già commessi in passato. Nel frattempo Tonali rinnova in vista. Lo vedremo anche sui portali online. E Krunic firma fino al 2025. Queste sono le prime pagine. E comunque diciamo la rassegna stampa in edicola oggi. Vediamo invece quella online oggi. La gazzetta dello sport apre su Rafa Leao. L'ombra del Chelsea su Leao. Ma lui e Milan fanno muro. E poi appunto la questione di Onana. Il Bordeaux non fa sconti per Onana. Milan davanti a un bibio. Su Sky Sport invece l'apertura è dedicata a Sandro Tonali. Milan vuole blindare Tonali. Si lavora per il rinnovo fino al 2027. Società rossonera al lavoro per blindare il centrocampista. Juve doppio obiettivo. Milik si avvicina e ora tutto su Paredes. L'incontro dell'Inter con gli agenti di Acerbi. E poi Felix alla Cremonese e Belotti alla Roma. Su Sport Mediaset l'apertura è per Acerbi. Il procuratore dice l'incontro è andato bene. Vediamo. Sarebbe felicissimo di andare all'Inter. Allegri la dirigenza. Allegri dirigenza. La scelta c'è stato a vertice. Ieri tra i dirigenti della Juventus e il tecnico. Milik è sempre più vicino. Il Bordeaux non molla. Niente prestito per Unana. E poi Benfica travolge la Dinamo Chieff. Ai gironi anche il Vittoria e il Maccabi. Domani infatti ci saranno, come dicevamo prima, i sorteggi di Champions League. La Juve si avvicina a Milik e sul Corriere dello Sport. Quindi anche qui l'apertura è dedicata ad Arcadius Milik. E sul Corriere dello Sport potete trovare anche i segreti di Milik. 5 cose da sapere. Calciomercato.com anche qui più areche che mai. Per quel che riguarda la Juventus. Milan nuovi contatti per Unana. Tra costi e la mossa degli agenti. Ecco cosa sta succedendo. La Roma finalmente arriva a Belotti. E poi, diciamo, ci sono alcuni approfondimenti. Juve figlia di un mercato antico. Allegri non ne dà mai nulla, dice Gianni Visnadi. E poi il simpatico Filippo Tramontana che dice Cialanoglu sposta gli equilibri e i numeri lo dimostrano. Un saluto a Daniele e a tutti voi. Appuntamento alle 13 con Mercoledì Sport.